Bene, it's Ouija time da adesso fino alla fine se possibile ora c'è il mondo speciale Galassia Luigi su Mario Mario diventa una stella Mario is dead Lunga vita Luigi E' in questo gioco che sono su Luigi quindi prendi le tutte ho 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 sono tutte Ok Con questi che mi seguono ok La vedo male Meno non c'è limite di tempo Ah sì che c'è shut up Non lo vedevo non so perché I fucked it up Sempre peggio La mente è fredda no? Questa è la mente? Da 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 Ah, era di là, posso risalire, ah, è patetico, è patetico però devo farlo, oh, è troppo in salita, ok, cadi e muori, cari e piangi, cadi, cadi e muori, poi rifai da capo, e piangi, e muori, e piangi, e muori, 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 piangi, muori, piangi, piangi, muori, mi sento come se ho il ginocchio, contro, shit, oppure qualcosa di completamente diverso, monete viola, mmm, why, faranno meglio non essere contate che son of a bitch, raccogli, no, raccogli ne 100, quindi no, non sono contate, oh, fuck you, mi hai fratto i sogni, son of a bitch, 10 in più, ci sono, ci sono, ci sono, vai, 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 Aveva già le kelle pronte Guarda che schifo E' lo stesso di Galaxy Solo 8 volte alla velocità Lo schippiamo Allora non ci si arrivava nel primo Galaxy E qua invece si Perché si è pro Si fanno cacchiate Pensavo che si sarebbe chiuso Su di me Ehi Luigi Ehi Si E' quello che ho fatto io Levitare nel vuoto Sembra una buona strategia O forse mi aspetta No La sua strategia è non finire il livello Bip 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 Boing Bip 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 Thunder Bip bup bap Bam Uomo muore perché scambia Il corrimano per le scale Dove Il corrimano per le scale Dove C'è gerne Il corrimano per le scale Vowa C'è Il corrimano per il tempo il corrimano per il tempo Muso per i Alfred 치 Gigi fa salti che infrangono la gravità UAAH! UAAH! Nooo! Non ho preso i timer Non ho preso niente Com'era? Nooo! Ok, sono indietro, sono indietro Fortuna che non sono infiniti, Luigi Ladies and gentlemen 120 stelle Yeah! Ora vi racconto una storia sulle meraviglie del cosmo La storia delle stelle verdi Stelle verdi erano Dei bonus Sono apparte dalle comete burlone Yeah! Sono andato al negozio e ho comprato dei pomodori Hai presente quelli lunghi? Ah, sì! Don Marzano No, San Marzano Ecco, è venuto da pensare Non è che magari sono pomodori alieni E sono San Marzano Oh, ho mai sentito quel verso C'è l'ho vista prima Anche saltare C'è il livello, c'è il livello finale Ok, questo non è saltare È tipo l'opposto di saltare That was dumb Oh Oh, what? Spe, spe, spe Sono tutte e due qua? Tipo, una è lì e l'altra è What? Oh! Non sono giù Ok, sono vivo Oh, anche Yoshi è vivo Ok Oh, Yoshi, I'm sorry Oh, what? No, non merito la morte Ok Dove cacchio è rispetto a me? A due passi da quella normale Yes È una di quelle che devo saltare a caso Ho 23 vite Oh, ok No Non mi è neanche lasciato fare un passo Era un fuck you istantaneo Qual è il colmo per un piatto? Essere piatto Oh, fuck No Ok Non ho ancora toccato la bandiera Cool Luigi non parte finché non parto io È un sogno di Luigi questo Questo Oh, yes Ok Ok C'è un figlio di non aver visto niente Ah, proprio non parte Non parte Non importa Non importa Non importa Questa sembra un bel posto dove grindare a Straschegge Cos'era quel suono? Non lo so Sono suoni I miei antenati lo usavano Per Per chiedere come Come condisco questo Questo brontosauro E l'altro io gli rispondeva Che vuol dire Siamo Ominidi Non esistiamo in contemporanea quei dinosauri Shut the fuck up E mangia il tuo mammut Yes Oh shit 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 Yeah Oh Oh Luigi Luigi Oh Luigi Sei quasi il numero uno I suoi poteri sovrannaturali The fuck are you doing? Carino però Non avevo mai visto Quella posa Per il tuffo Mi sa che non è un glitch Semplicemente Nelle stelle verdi Ti dice Fuck you Non ti aiuto Si trova solo un posto In cui riposare Però una bella visuale Credo Dovrei vederla Se non è troppo nascosta I can't see shit Dove sono? Ma che cacchio Sono nuotato nella parete? Ah no 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 Ok 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 Sono fuori Sono fuori Sono fuori No 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 Che cacchio è successa la camera qua Oppure mi pare che tipo tipo aspettare che la colonna cada e poi la rivela Tipo non so se questa o quella Quella tipo magari Vai 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 Dai c'è una stella lì dietro vero? Se non c'è Oh Bravo Lethal Memoria di Lethal works Ora devo solo prenderla Ah fuck Dietro front Dietro front Fuck Come diceva Genghis Khan Basta non cagarla Chance di cagarla però sono astronomi che devo avvertirmi E invece Ce la fece Altro che cagarla Ce la fece Che c'è in questo tubo Tra l'altro Ok no grazie A parte che non serve Devo solo evitare di farmi colpire Wow aspetta un attimo No What? Fuck you Luigi Lui non li affronta Oh Schiacciato mezz'aria Povero Gigi Ok aspetta spin Hop 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 oh Eeeh bofumal bofumal Voglio vedere Eeeh no dai Devo solo azzeccarlo Vada Tutte le stelle verdi I think Guardalo il buco che cerca di mangiarmi Galassia leggendaria C'è anche la medaglia da prendere C'è anche la medaglia da prendere Immagino niente checkpoint Né monete Oh Ok Come non detto Checkpoint monete look at that Uuuuuh anguria Ci sono le angurie Ah 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 no Ah è finita Ok ultima stella Here we go Ah 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 Dovei schipare tutto man FUUCK No, no. Oh, what? What? No, basta, basta! Basta, basta, basta! Oh! Fuck you, Rosalinda! Yes! Yes! Più me mi sento, mi sento pieno di rabbia. No, voglio andare a picchiare Bowser. In the balls! Again! Oh, oh, vai a cagare! Oh, oh! Bam! Un'ultima volta la foto. Col tizio. Yeah, siamo laureati! Aspetta. Vediamo se il file... Yeah, scintilla! We did it! Sono il maestro del galassio, la colonna di platino... E tante noci di cocco splendide. Grazie di aver guardato questo video, gentile pubblico. Era l'ultimo video di Galaxy 2. Voglio ringraziare Kirby Ale per aver tagliato i clip. E naturalmente Adam per averli montati ed editati per creare questi highlight. Voglio naturalmente ringraziare tutti i miei Patreon che potete vedere su schermo. Visto che secondo i miei calcoli questo video uscirà poco prima di Natale. Per voi che non siete Patreon, buone feste! E spero che le passiate il più tranquilli possibile. Fate comunque attenzione e rispettate comunque le norme della vostra location, ovunque siate. E al prossimo, quando uscirà, probabilmente nel 2021, su Super Mario 3D Land. Bye bye! Statemi bene! Non c'è più batteria, quindi com'è che va avanti? Va avanti a preghiere. But my hope will never die But my hope will never die But my hope will never die Grazie a tutti.